E' partita ufficialmente la nuova stagione del Brindisi targato Ciro Danucci, un raduno con sorpresa per i biancazzurri che hanno potuto abbracciare anche l'ultimo colpo di mercato. Si tratta di Simone Danna, classe 1990, che andrà ad arricchire il reparto offensivo ex di Bitonto, Ferrara, Lecco e Monopoli. Si tratta di un giocatore di esperienza fortemente voluto dallo stesso allenatore. I biancazzurri sono senza ombra di dubbio tra i club più attivi su questo calciomercato, presenti al primo giorno di allenamento il presidente Daniele Arigliano, il direttore generale Gigi Valentini e il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi. Con l'allenatore Ciro Danucci abbiamo fatto il punto della situazione. Il primo giorno è soprattutto per conoscersi, abbiamo conosciuto un po' i ragazzi, naturalmente molti li conoscevamo già, con gli altri magari soprattutto con i più giovani oggi è stato il primo giorno. E' un impatto molto positivo, ho visto ragazzi vogliosi di fare bene, quindi devo dire il primo giorno è stato molto molto buono come impatto. Noi quando partiamo naturalmente all'inizio cerchiamo, la prima cosa è quella di creare un gruppo, quindi ora siamo orientati soprattutto a creare un gruppo che abbia determinate caratteristiche, che abbia una propria identità, perché i risultati si ottengono soltanto con il lavoro, quindi in questo momento dobbiamo pensare solo a lavorare senza avere degli obiettivi particolari, poi i campionati sono talmente lunghi che a luglio-agosto è difficile fare i pronostici, però sicuramente stiamo allestendo una buona squadra e cercheremo di farci trovare pronti su tutti i campi. I giocatori che sono arrivati sono giocatori che abbiamo fortemente voluto, quindi sono tutte delle prime scelte, giocatori che abbiamo inseguito, che siamo riusciti a prendere, quindi siamo molto contenti del mercato, la squadra è al 60-70% circa, quindi arriveranno altri giocatori che ci daranno una mano in questa stagione, che comunque sarà lunga e quindi avremo bisogno di tutti, quindi sono molto fiducioso.